guarda come si richiude mamma mia questa si è richiusa perfettamente come se non avessimo lanciato nulla c'è di tutto ci sono anche bombolette spray per tusillo 9 luglio 2023 sponda spinoso siamo all'altezza del muro l'acqua è verde è un verde smeraldo qui la quantità di impurità sul margine destro del muro è aumentata esponenzialmente negli ultimi mesi infatti è cresciuta anche la vegetazione vicino al bordo acqua e qua lo strato si è fatto molto più compatto però ci sono degli aloni nerastri o sembrano nerastri sono delle trasparenze però c'è un film tale di grassi in superficie che proviamo a fare il testo del sasso proviamola a fare qua ecco ecco quindi la patina che sta in superficie così carica di contaminanti nutrienti probabilmente oli e grassi da sto punto che tende a richiudersi ea ricompattarsi proviamo a farlo anche in un altro punto ecco vedi come si richiude ecco